ma ciao allora cosa dico sempre di non fare shopping quando bisogna distarsi perché il come in questo caso e che io da bottega verde faccio danni con uno scontrino da 92 e 95 e ora vi mostro tutto allora prima io sono impazzita per questi profumi questi sono le de toilette fatti così questo è alla mora selvatica hanno usato è fantastico 30 ml prezzo 23 e 49 ovviamente non ne ho preso solo uno ma ho preso anche questa i petri di vaniglia che è fantastico stesso prezzo quindi 23 e 49 siamo in periodo estivo e allora perché no anche dei prodotti per la cura del corpo questa è la crema corpo alla menta estivissima 200 ml e scontrino 14 e 49 e poi ovviamente siamo in estate e allora anche questa limone agrumi sempre un latte corpo ed è sempre 14 e 49 oltretutto c'era una novità e ho voluto assolutamente provarla questo è il gel contorno occhi sguardo fresco disteso con aloe è una novità ne parlano bene adesso proverò e poi vi farò la recensione questa è il classico 15 ml e il prezzo è di 16 e 99 quindi totale 92 95 ma che cosa vi dico sempre io sarò pazza vi dico di stare attenta alle promozioni e poi dopo faccio questo shopping assurdo assolutamente no infatti attenzione alle promozioni tutto questo io l'ho pagato a non è sponsorizzato perché l'ho pagato con soldi miei 27 95 ci credete sì perché alla fine avevo un buono e quindi profumi state pagarli 4 99 luna stessa cosa per creme 4 99 luna e il contorno occhi invece ea in promozione e l'ho pagata sempre scontrino alla mano 7 99 quindi guardate sempre le promozioni omaggini omaggini che mi ha dato la commessa gentilissima oltretutto crema viso straordinaria profumo alla violetta shampoo extra dolce alla veina crema viso 24 ore all'alue e in eteri preziosi le toilette gesumino notturno questo è fantastico e il dopo sole del recensiero a breve oltretutto gentilissima mi ha regalato anche un rossetto questo è il rossetto lunga tenuta matt assoluto nutriente con olio d'argan e vitamina e long lasting e questo qui c'è il clore da qualche parte succo di lampone è questo ed è quello che indosso non è veramente un rossetto opaco comunque sia per adesso sta lì è confortevole e fa il suo lavoro quindi non è proprio molto estivo però comunque sia carino e soprattutto in omaggio quindi fatemi sapere se vi è piaciuto questo video mi raccomando sempre spolliciate con un like condividetelo anche così anche le vostre amiche sapranno che si può stare attenti alle promozioni e spendere un terzo un quarto di quello che è il prezzo di listino e mi raccomando di iscrivervi qui sotto il video per non perdere questi video di shopping e cliccate sulla campanella e iscrivetevi basta alla prossima ciao